Ciao a tutti amici di Apple Video Review In questo brevissimo video vado a farvi vedere come abilitare una delle funzioni che sono state introdotte in iOS 5 Sto parlando della sincronizzazione wifi Questo nuovo tipo di sincronizzare il proprio dispositivo Permette di sincronizzarlo ogni qualvolta noi lo andremo a collegare Sia obbligatoriamente ad una rete wifi dove è presente anche il proprio computer E sia anche a una fonte di corrente elettrica Quindi può essere collegato al computer oppure al caricabatterie Per abilitare questa funzione basterà andare nella scheda in iTunes relativa al proprio dispositivo E scorrendo nella pagina del sommario Andando verso il basso troviamo la voce Sincronizza questo iPod via wifi Dopo averlo abilitato che è la seconda voce presente nell'elenco La funzione è attiva Ora vado a farvi vedere come è questa funzione in azione Andiamo ora al dispositivo quindi sblocchiamolo e andiamo nelle impostazioni Perché? Perché ovviamente come ho già spiegato bisognerà essere connessi alla rete wifi E basterà andare in impostazioni generali sincronizzazione wifi Qui verrà trovato il nostro computer E qualora la funzione fosse abilitata abbiamo il pulsante sincronizza attivo Possiamo vedere anche l'ultima sincronizzazione quando è stata E sopra qui è anche indicata alcune istruzioni su questa funzione Premiamo sincronizza come si può vedere là in fondo iTunes Sta sincronizzando il dispositivo e sul dispositivo compare il simbolino della sincronizzazione Non è obbligatorio però attivarla noi stessi dalle impostazioni Infatti questa è una funzione che si avvia in automatico Ogni volta che il nostro dispositivo viene collegato a una fonte di energia Ora vado a scollegare il mio dispositivo che non è connesso al computer Ma è connesso tramite carica batterie alla presa elettrica E ora vado a ricollegarlo Una volta che è ricollegato come si può vedere Avete sentito anche il suono della ricarica Qui compare il simbolino di sincronizzazione E iTunes ha appena finito di sincronizzarlo Quindi una nuova funzione che permette di sincronizzare il nostro dispositivo In modo molto più semplice senza doverlo necessariamente collegare al computer Questo breve video tutorial si conclude qui Ciao a tutti